Sarà realizzato lunedì prossimo 10 aprile l'intervento di montaggio di mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori di riprestino e consolidamento del Ponte Vecchio rinviato mercoledì scorso a causa del maltempo. È stata quindi disposta con specifica ordinanza la chiusura completa al transito pedonale del tratto di Via Angarano per tutta la larghezza della strada compreso tra il civico 9 e il 13 lato sud e tra il civico 10 e il 14 lato nord. Nella giornata di lunedì dalle ore 6 alle ore 13 e comunque fino al montaggio completo della gru. Nell'intervallo di tempo indicato l'accesso ai civici compresi tra la zona interdetta e il Ponte degli Alpini sarà possibile solamente da sinistra a Brenta lato centro storico e sarà in funzione il bus navetta per collegare Via Angarano al centro storico.